A me che arrivo a parte che hanno un'autovista, un nostro punto di discussione è di un'olina, quello che hanno. E c'è un'altra parte essenziale, che è la parte di fauna e flora e anche di nostra naturalezza. Ora, possiamo escociare il signor Greg Peterson del Parlamento, attraverso un punto di vista differente di quello che noi tutti discutivamo con l'economia e l'allocazione. Siamo da parte di un pacharo, che hanno come 30 specie di pacharo, che hanno vinto di diverse parti di America e attraverso un'altra parte di Napa. Attraverso una domanda, che si sono una domanda, e ora il signor Greg Peterson deviare il discurso, qui è un'ottico di Napa, in Parca di Molina. E questa seconda, che la pacharo di venire, poi automaticamente avvicino il risultato di un problema di questo paese. E un paese che non mata lo che è naturalezza, lo che è un pacharo, praticamente avvicino la decadenzia, la economia. E questo è un statement, molto interessante, ma può mirare le relazioni di naturalezza con l'economia e con il desarrollo. Quindi è che non ci si parla quieto, ci si parla che c'è un miembro di una fraccione di AFP e tutti i parlamentari non ci sono sempre di critica come appunti, però nel caso è che c'è qualcosa di più strano, come c'è solamente 5 miembro di AFP del Parlamento, arriva a un tópico così importante. Quindi è che c'è una falta di interesse di parte di una fraccione, ma è che i'avimenti di più strano, ma quello che è positivo da l'altra banda è che ci sono una volta che c'è un cambio di pensamento che non ci si riempa di condividere, perché non ci sono un'informazione che è importante che ci sono i p.m. chei di un p.m. C'è un'c.m. Greg Peterson è una famiglia di diverse specie che ha detto che è un esempio, ora ci sono qua in Molina non ci sono i più strano. Quindi, per coincidere, la onda è che il parco di Molina che è qui, e spiega il strumento di pijarone venendo. Ora mi chiedono a tutti i sali, chi è venuto per me? Se vieni a un pijaro, se vieni a un pijaro, se vieni a un pijaro? Ora mi contesta, se vieni a una fracciaio di AFFB, no, sempre vai per anni, a un pijaro, a un pijaro, che ha un crescimento grande, di pijaro, che vieni, che sta passando a capa della linea che vieni. Ora, qui è importante, perché non solo è parte di economia, è parte del desarrollo, è anche parte della naturalezza del progetto qui, che è riuscito da niente per questa area qui. Ci sono diverse prestazioni per la salute. La molina qui è almeno un 30% più grande che la zona del Padre Pit. La conseguenza è che ora che la molina qui è attravo. Con il stop, c'è una caida del viento, del flujo di via, con un calore imenso. Ci sono anche parte di da un'ambiente. Ci sono anche parte di un'ambiente, che è un'ambiente più grande, ma troppo di 30%. E' un'ambiente profondo. A me stiamo qui ci sono andato, per sentire dal Parlamento, per non sapere una vista ampio, di dettagli di quale effetto il massimo. Se si è riuscito a qui, ci sono andato a qui, ci sono e altre istanze di utilità per attravoare un punto di vista. Però, mirando il rapporto di Mer, con il signore Greg Peterson, Grazie per la visione